A Lucca negli ultimi anni sono spuntate rotatorie in ogni dove. Ce ne sono di piccole e malinconiche rotatorie di periferia, ma anche quelle grandi e fastose alle porte della città. Ce n'è una però davvero speciale, in possesso di un record assoluto. È la rotatoria più inutile del mondo e si trova su una curva di via Lippi Francesconi, dietro liti fermi. Questa rotatoria non serve assolutamente a niente, su di essa non sboccano altre strade. Venne realizzata nell'ambito della nuova viabilità per l'ospedale con l'idea che venisse fatto un collegamento con la via di Tiglio, ma questa arteria non è mai stata portata a termine e l'asfalto si perde nell'erba di un campo che divide alcune abitazioni, mentre con la parallela via Bongi è stato realizzato soltanto un piccolo sentiero pedonale. Proprio nell'ultima assemblea sul traffico l'assessore Marchini ha proposto di completare finalmente il tratto con la via di Tiglio per alleggerire il traffico sulle strade vicine. Ormai però l'eventuale progetto dovrà essere preso in carico dalla prossima amministrazione. Ma forse ormai è meglio lasciarla così, monumento e spazio di riflessione sul senso stesso della rotatoria. Anche perché a Lucca, come in altre città, il traffico ormai è tutto un giramento.